E' sconfitto il Napoli a Bilisi dalla Dinamo che va subito in vantaggio con questo gol di Kisanishvili, sempre su azione promossa da Schenghelia, l'ottimo giocatore della nazionale. Attenzione al bellissimo pareggio, Krishimani serve per Ramon Dias e questo è un gol che probabilmente ha fruttato molti punti nella classifica del Bravo a Ramon Dias. Ma è ancora dall'ottimo Schenghelia il gol della vittoria dei sovietici. Il Napoli comunque non...